Finito il tempo di proclami e dichiarazioni di intenti, è arrivato il momento per la Grecia di sedersi al tavolo e iniziare a trattare con i partner europei. Trattative, quelle che inizieranno all'Eurogruppo, che si preannunciano tutt'altro che semplici. All'appuntamento Atene dovrebbe presentarsi con un piano in 4 o 5 punti su cui tentare di raggiungere un accordo. Tra questi, in particolare, un programma a ponte fino alla fine di agosto e poi l'abolizione di circa il 30% del vecchio programma concordato con la Troica e la sua sostituzione con un pacchetto di 10 riforme da preparare in collaborazione con l'Ocse. Il pacchetto prevederebbe anche una sostanziale riduzione dell'avanzo primario della Grecia dal 3%, previsto dal memorandum, all'1,49%. Ma i segnali che giungono da Bruxelles sono decisamente poco incoraggianti. Con le autorità greche ci sono stati scambi intensi, ma finora non sono stati fruttuosi, ha spiegato oggi l'esecutivo europeo, ammettendo le aspettative per un accordo finale all'Eurogruppo o al vertice dei capi di Stato di questa settimana restano molto basse. Ancora più netto Jean-Claude Juncker che ha già chiarito l'umore generale nell'area euro non è cambiato al punto da fare cedere senza condizioni alle richieste del governo Tsipras. Più morbida la posizione dell'Italia che si dichiara pronta ad ascoltare le proposte greche. Aspettiamo domani di vedere le proposte della Grecia. Certo noi non abbiamo interesse a fare un muro contro muro, abbiamo interesse a trovare delle soluzioni che rispettino gli obiettivi, che rispettino gli impegni e che tengano tutti a tono al tavolo.